Sono Giuseppe Leoni, una delle persone che si è attivata dopo il terremoto delle Miglie per ripartire un progetto di sostegno alle imprese. Il progetto si chiama Facciamo Adesso, che si rivolge alle aziende che sono state colpite dal terremoto e che hanno bisogno di ripartire liberando i propri magazzini, vendendo i propri prodotti a clienti che oggi non ci sono più e quindi abbiamo bisogno di rimetterli in contatto con nuovi clienti e nuove persone. Oggi stiamo andando a Cavezzo, dove con l'aiuto di alcuni volontari aiuteremo alcune aziende a caricare il proprio profilo, la propria storia, le proprie foto su un portale che serve a farli conoscere e incontrare dei consumatori consapevoli e solidali e fare in modo che l'aiuto delle persone avvenga direttamente verso chi ne ha bisogno ma al di là dell'aiuto concreto anche per ricostruire legami, relazioni, un tessuto sociale che in questo momento è stato completamente sconvolto. Mercato alla domenica l'abbiamo fatto partire due domeniche fa, siamo riusciti, abbiamo dovuto trasferirlo temporaneamente in un'area che non fosse soggetta a rischi di crolli, insomma con una viabilità molto sicura perché siamo ancora in una fase molto critica. Portiamo i commercianti sul portale, bisogna assolutamente fare così, attivare percorsi alternativi anche perché molti di loro per un po' di tempo ancora non riusciranno assolutamente a riprendere con l'attività. Vieni a Bacchetta perché stamattina mi hanno dato l'inagibilità. Ecco, è www.facciamodesso.it, voi potete entrare, vi registrate prima, ci sono tutte le istruzioni facilissime. Grazie a tutti.